La nostra città è morta da sei anni. Prima c'è stata la chiusura della miniera. Poi una cosa terribile ha cominciato a distruggerla per sempre. Allora ci credi anche tu. Da tempo a Cold Rock spariscono bambini. L'ultimo è scomparso due mesi fa, tra non molto ne spazio. Comparirà un altro. Tra poco si mangia, va bene? Devi andare a lavoro domani? Sì. Possiamo giocare ancora insieme quando ritorni? Te lo prometto. David! Circondate la zona! Cercatela per tutto! Era tutto finito. I bambini ne hanno pagato il prezzo. I bambini? Era come una vecchia canzone. Una fiaba. Un'antica leggenda. Ma quella sensazione non è durata a lungo. Non l'abbiamo trovato. Né lui, né gli altri. è... chegesti in ansia. Un bell'articiorno. È comunque un episodio che è andato.